Furti a Raffica in provincia di Campobasso, gli investigatori non escludono il coinvolgimento di persone del posto, polizia, carabinieri e finanza, rafforzano i controlli su tutto il territorio, grave il non funzionamento delle telecamere. Strada provinciale 88 Sangrina, interpellanza urgente di Greco e Primiani, 5 Stelle accusano Thomas, è dimenticato dei problemi di migliaia di cittadini, appello al governatore per chiedere di trasferire la gestione dell'arteria ad Anas. Il gestore di un depuratore di un comune ricadente nel territorio della riserva Mab di Monte di Mezzo, denunciato dai carabinieri forestali, fanghi non smaltiti, pericolo concreto di inquinamento per suoli e fagli acquifere dell'area. Al Castello Pignatelli di Monte Roduni, concerto dell'Epifania per gli ospiti del progetto Sprar, un'iniziativa finalizzata all'accoglienza e all'integrazione in pediatria a Isernia, la befana della biodiversità. Il primo presidente della Corte d'Appello di Campobasso, Nicola Moscato, circondato dall'affetto dei suoi familiari, ha festeggiato l'invidiabile traguardo del secolo di vita. Infine allo sport, il cancio di Seredin, cazzato nero per il rocambolesco, pari contro l'Avezzano, l'allenatore del Campobasso, Milko Cudini, sfida la caporista. Gara stimolante, Lupi senza Alessandro, l'Agnonese sogna i play-off, Mastro Girardi, Farina già proiettato alla Iesina. Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso. In apertura, lo avete sentito dai nostri titoli, c'è la cronaca, ci sono i furti a raffica in provincia di Campobasso. Gli investigatori non escludono il coinvolgimento di persone del posto. Polizia, Carabinieri e Finanza intensificano i controlli su tutto il territorio grave e il non funzionamento delle telecamere. Questa mattina Cristina Aniro ha intervistato il dirigente della squadra mobile di Campobasso, Raffaele Iasi. Vediamo il contributo. Un fenomeno anomalo rispetto al trend degli altri anni, quando il fenomeno dei furti si fermava soprattutto nei periodi festivi e poi riprendeva dopo. Quest'anno invece forse anche frutto di scorribbande che provengono dalla vicina Campania, dalla vicina Puglia, ma anche e non escludiamo di soggetti del territorio. Sono al lavoro gli uomini della questura di Campobasso, ma in collaborazione con tutte le forze dell'ordine del territorio, per arginare un fenomeno che sta preoccupando la popolazione della provincia, che è quello dei furti. Se ne sono registrati diversi. In queste ultime settimane si è alzata l'allerta su un Audi A4 blu scuro. Quella era una foto scattata a seguito di un furto a Ripoli Mosani prima di Natale, ma una targa che è abbinata ad un altro veicolo, un altro veicolo che non risulta rubato, eccetera. Quindi evidentemente anche lì per sfuggire da eventuali telecamere si sono attrezzati con una clonazione di una targa che non corrisponde a quella della vettura. Dunque ci sono degli elementi attorno ai quali gli agenti della squadra mobile e della squadra volante sono al lavoro insieme a Carabinieri e Guardia di Finanza. Ma il dirigente della squadra mobile, Raffaele Iasi, invita tuttavia a non abbassare la guardia concentrando l'attenzione soltanto su questo modello di autovettura finora avvistata durante i colpi. Non dobbiamo abbassare la guardia, non possiamo focalizzarci su quel tipo di macchina, su quel colore, pensando che se soltanto avvistiamo quel tipo di macchina allora ci crea quel tipo di vettura il sospetto che magari in zona, nel territorio, nel quartiere ci possano essere malintenzionati. Sono gli atteggiamenti più generali di gente che non si è mai vista nel quartiere, di macchine che stanno in sosta o che si vedono in una zona ripetutamente, che magari la gente di un territorio piccolo come Campobasso e i paesi non hanno mai osservato e visto, che deve allertare. Furti a macchia di leopardo, non c'è una zona dell'Interland di Campobasso più battuta di un'altra, spiega il capo della mobile. Dunque si tratta di bande che potrebbero non avere una matrice definita, che potrebbero arrivare dalla campagna come dalla Puglia senza per questo escludere fino anche gente del posto. In qualche circostanza abbiamo avuto anche cittadini presenti in casa, nel costo di Oratino, mi riferisco a Cerce Maggiore, a Benchiaturo qualche giorno fa. Anche questo non ha distolto ancorché fatto scappare i ladri quando si sono resi conto che in casa c'era della gente. Quindi la collaborazione, come già il colonnello Gaeta qualche tempo fa richiesta, dell'arma dei Carabinieri è essenziale. La Questura ha rafforzato i controlli in sinergia con l'arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, ma è chiaro che determinante resta la collaborazione della popolazione. Noi ce la stiamo mettendo tutta nel potenziare il controllo del territorio. Avremmo bisogno anche dell'ausilio della videosorveglianza che ancora non è attiva nel territorio, nonostante sia auspicabile a breve si risolva questa problematica, perché quello aiuterà molto noi, i Carabinieri e chi fa il lavoro di contrasto al crimine nell'individuare e poi assicurare alla giustizia i responsabili di questi fatti. Ci occupiamo della strada provinciale 88 Sangrina. Interpellanza urgente di Greco e Primiani. i 5 Stelle accusano il governatore Thomas. Si è dimenticato dei problemi di migliaia di cittadini. Appello al governatore per chiedere di trasferire la gestione dell'arteria all'ANAS. Vediamo il contributo. Strada provinciale Sangrina e la sua gestione. Il Movimento 5 Stelle prepara un'interpellanza. Andrea Greco e Angelo Primiani tornano ad occuparsi della strada provinciale che collega Abruzzo e Murise, che presenta danni al fondo stradale e andrebbe messa in sicurezza. Di questi interventi, spiegano i consiglieri pentastellati, si parla dal 2011. E già allora, a causa della mancanza di risorse finanziarie, la provincia di Sernia fu costretta a emettere ordinanza di limitazioni al traffico per i mezzi pesanti. Queste limitazioni sono state confermate diverse volte in questi anni, costringendo gli utenti ad utilizzare percorsi alternativi lunghi, con evidenti disagi per cittadini e aziende, dato il notevole aumento dei tempi di percorrenza e dei costi di trasporto. Tuttavia, continuano i rappresentanti del Movimento, ad oggi non è stata avviata nessuna opera di manutenzione straordinaria. La soluzione a questi problemi è stata trovata dai comuni interessati, che hanno chiesto di trasferire la gestione provvisoria della strada ad Anas, in attesa del completamento della Fondo Valle Sangro. Nell'ottobre del 2018, l'assessore regionale alla viabilità Vincenzo Niro chiese al Ministero dei Trasporti il passaggio in Anas e a giugno dell'anno successivo il governatore abruzzese, Marco Marsilio, confermò questa volontà preparando uno schema di affidamento e coinvolgendo gli altri enti interessati, ma dalla regione accusano Greco e Primiani, dal presidente Toma, nessuna risposta, da qui l'appello al presidente per chiedere di trasferire la gestione dell'arteria ad Anas e l'interpellanza urgente all'assessore Niro per capire quale sia, dopo oltre un anno, l'esito della richiesta al MIT. Per Greco e Primiani, infine, è importante capire come si sta muovendo la regione e se il governatore Toma vuole firmare lo schema di convenzione e qual è la strategia pensata dalla Giunta per risolvere i disagi che migliaia di cittadini patiscono da quasi un decennio. Il gestore di un depuratore di un comune ricadente nel territorio della riserva MAV di Monte di Mezzo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia dai Carabinieri Forestali della stazione di Carovilli. I controlli dei Carabinieri Forestali hanno consentito di accertare che i fanghi derivanti dai processi depurativi giacevano in grandi quantità sul letto di essiccamento da più di un anno senza che venissero smaltiti. Si tratta in pratica di un deposito incontrollato di rifiuti che rappresenta un concreto pericolo di inquinamento per i suoli e per le falde acquifere dell'area. I accurati controlli documentali svolti dai militari hanno messo in luce che il registro di carico e scarico dei rifiuti non era aggiornato poiché non venivano annotate alcune operazioni. Nel 2020 hanno annunciato i vertici dell'arma. I controlli sulla corretta gestione dei depuratori urbani e industriali sarà un settore che avrà priorità allo scopo di tutelare e preservare suoli e corpi idrici naturali dall'inquinamento. Sempre alta l'attenzione della Polizia di Stato nell'attività di prevenzione a tutela della sicurezza dei cittadini anche attraverso le missioni di provvedimenti di avviso orale nei confronti delle persone considerate pericolose. Nelle ultime ore il questore di Sernia Roberto Pellicone ha emesso 11 avvisi nei confronti di altrettanti malavitosi la cui pericolosità è stata ritenuta attuale e concreta. Si tratta di persone tutte residenti in provincia di età compresa tra i 20 e i 43 anni appartenenti alla criminalità comune che annoverano a loro carico numerosi precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio ed estorsione truffa guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti e spaccio dopo le indagini della divisione anticrimine tutti sono stati ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. Cambiamo argomento, andiamo a Termoli, parliamo di politica, parliamo di un primo bilancio che è stato tracciato dalla rete della sinistra, Giovanni Cannarsa ha sentito Marcella Stumpo, vediamo il contributo. Per la rete della sinistra si è trattato della prima volta la prima consigliatura in comune a Termoli che ha portato l'unico consigliere comunale Marcella Stumpo a confrontarsi su tematiche di estrema attualità molte delle quali ereditate dalla scorsa amministrazione. La rete della sinistra si è battuta per le politiche ambientali in particolar modo sul tunnel che l'amministrazione sbrocca voleva realizzare un vero e proprio tormentone che ha tenuto banco negli ultimi mesi. Sono stati mesi abbastanza difficili perché per noi si trattava di un apprendistato istituzionale ma sicuramente molto istruttivi come esperienza e oggi volevamo fare una sintesi sia di quello che abbiamo fatto, un enorme lavoro nelle commissioni con l'approvazione all'unanimità di due delibere su temi ambientali che erano quelli che ci stanno molto a cuore, la dichiarazione di emergenza climatica e il catastro e piano regolatore del verde. Abbiamo fatto un lavoro enorme sul bilancio evidenziando molte criticità e la necessità di uno studio molto più approfondito da parte di tutti per capire questo tema così complesso. Stiamo lavorando moltissimo poi su tutti i punti critici anche lasciati dalla precedente amministrazione cioè soprattutto il MACTE, la finanza di progetto alla Rivera e non ultimo riprenderemo poi anche il problema del tunnel perché il comune deve decidersi a revocare in autotutela tutti gli atti che possono essere preparatori diciamo di questa sciagurata opera che noi riteniamo vada assolutamente fermata. Per il futuro la rete della sinistra promette di non abbassare il tiro in quante tante sono ancora le problematiche da affrontare e risolvere. Sarà un 2020 di lotta sicuramente perché riteniamo che molti nodi verranno al pettine bisogna affrontare problemi come quello dei debiti fuori bilancio che saltano fuori all'ultimo momento e poi li devi approvare con maratone terribili come quella prima del 30 dicembre senza poter magari neanche guardare e capire bene di cosa si tratta e soprattutto continueremo a proporre quelli che sono le nostre ricette per la città ben sapendo che siamo un'opposizione ovviamente minoritaria rispetto alla maggioranza ma riteniamo che il dovere dell'opposizione sia collaborare dove è possibile per il bene della città ma fare opposizione secca e lotta dura su tutto quello che secondo noi e sono molte cose non è il bene della città. Nicola Moscato primo presidente della corte d'appello di Campobasso ha festeggiato circondato dall'affetto dei suoi familiari l'invidiabile traguardo del secolo di vita. Nato a Napoli il 6 gennaio 1920 Nicola Moscato ha iniziato la sua carriera presso la pretura di Isernia dopo una straordinaria carriera in magistratura avendo ricoperto sempre ruoli a Picali nei tribunali di Napoli, Campobasso e Isernia è stato collocato a riposo nel 1990 con il grado di presidente aggiunto della Suprema Corte di Cassazione. È stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce ordine al merito della Repubblica italiana con decreto del presidente della Repubblica nel 90 al presidente Moscato. Giungano gli auguri della redazione e dei nostri editori per l'ambito traguardo. raggiunto. Ora andiamo al castello Pignatelli di Monte Roduni dove si è svolto il concerto dell'Epifania per gli ospiti del progetto Sprar, un'iniziativa finalizzata all'accoglienza e all'integrazione. Sentiamo Nicola De Santis. Lo Sprar Holiday di Monte Roduni ha organizzato, nella splendida cornice del castello Pignatelli, il concerto del coro Gospel Ancien Souls in occasione della chiusura delle festività natalizie. All'evento hanno partecipato gli ospiti del centro Sprar che per l'occasione hanno realizzato un video sulle attività ludico-ricreative svolte da loro all'interno dello Sprar. A chiudere la serata, un buffet di prodotti tipici dei paesi di provenienza dei migranti e l'allestimento di un banchetto con i manufatti realizzati dagli ospiti dell'Holiday. A presentare la serata Cassandra Picciano, coordinatrice del progetto Sprar, che ha voluto ringraziare il sindaco di Monte Roduni, custode russo, per aver creduto sin da subito nel progetto e per non aver mai fatto mancare la sua avvicinanza ai ragazzi ospiti dell'Holiday. Ed è proprio a loro che è rivolta l'iniziativa dell'Epifania, finalizzata l'integrazione attraverso le buone pratiche dell'accoglienza. Sipul 5, il sono appuntino ai ragazzi ospiti dell' strangely ended. L'Avis di Termoli traccia il consueto bilancio su donazione e impegno dei giovani. L'associazione sul territorio continua a ottenere consensi e un concreto contributo grazie all'attività di divulgazione che viene portata avanti da anni. Il nostro lavoro che abbiamo fatto in questi giorni, in questi mesi, in questi anni, raccogliamo i frutti, diciamo, quello di riconoscere ai ragazzi il merito importante di essere diventati donatori. Questo è una grande conquista, perché sul territorio è molto importante averli, specialmente noi nel Molise, che stiamo soffrendo delle grosse difficoltà, sia dal punto di vista, perché è una popolazione anziana e quindi abbiamo bisogno del rinnovo generazionale, che noi abbiamo compiuto a pieno termoli. Di fatti il 50% dei nostri donatori è al di sotto dei 35 anni. Una conquista veramente grandiosa che ci invidiano tutte le Avis nazionali. È un lavoro profiguo che è stato fatto con le scuole, i dirigenti scolastici ci hanno accompagnato, i professori ci hanno fatti da tramite di unione e quindi naturalmente il progetto ha riscosso notevoli successi. Un ulteriore motivo di orgoglio è continuare con il cammino intrapreso e a tempo debito a recarsi direttamente dai donatori per i prelievi. Stiamo lavorando bene insieme a tutta quanta la struttura regionale. L'Avis regionale ci supporta, ci aiuta, ci conforta, anche avendo grosse difficoltà a livello di ASREM regionale, perché ormai siamo quasi alla frutta e capiamo il motivo quale possa essere. I nostri giovani che sono in Tanti arrivano alla sala donatore e lì c'è l'imbuto, che purtroppo non riusciamo a smaltire tutte le donazioni. L'Avis regionale ci dona mano, mandandoci qui a termo le autoemoteca, arriviamo direttamente dagli istituti e quindi facciamo quello che non possiamo fare in sala donatori. L'ultimo aiuto che ha dato l'Avis è quello di dare un'occupazione a un'infermiera nella sala donatori, perché giustamente non riuscivano e non avevano la possibilità di metterne un'altra, quindi l'Assunda, l'Avis di Termoli, danno un grosso aiuto. Per coinvolgere direttamente i giovani, l'Avis si reca direttamente negli istituti scolastici, illustrando l'importante progetto che porta avanti e che oggi conta 300 donatori sotto i 35 anni solamente nel territorio cittadino. Allora noi andiamo nelle scuole, programmiamo tutti gli incontri, naturalmente poi andiamo a prendere i ragazzi nelle scuole che i professori ci aiutano a organizzare, li portiamo nella sala donatori, fanno un piccolo prelievo, l'elettrocardiogramma e dopo 15-20 giorni si riesce ad avere l'idoneità. Da quella data si può programmare la prima donazione. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sulle Molise con il meteo. Queste le previsioni per mercoledì 8 gennaio. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Queste invece le temperature. Campobasso 2,7, Isernia meno 2,10, Termoli 8,12, Venafro meno 2,11. Bene, tutto per questa edizione. La nostra informazione torna questa sera alle 19.30 in diretta con la collega Valentina Ciarlante. Ora linea alla regia, subito dopo Cielo Sport con il calcio. Di Seredi in primo piano le dichiarazioni di Cudini, ma anche quelle di Farina e di Rullo dell'Olimpia agnonese. A tra poco. Lo sport, il calcio di Seredi con la schermata. Vediamo il risultato della gara che si è disputata ieri, quella tra Chieti e Vastese con la vittoria della formazione ospite per 2-0. Questa è la nuova e definitiva classifica dopo la prima del girone di ritorno con la Vastese che sale a quota 29 punti. Il Chieti resta a 17. Ed ora parliamo del Campobasso. Siamo incazzati per l'ultimo pari. Il calcio va così, le dichiarazioni di Mirko Cudini, allenatore del Lupo che non si dà pace per il Rocambolesco. 2-2 contro l'Avezzano. L'allenatore tuttavia è già proiettato al Big Match di domenica prossima in casa della capolista San Nicolò. Gara che verrà trasmessa in diretta da Sport Italia. Intanto queste le dichiarazioni del tecnico dei Lupi, intervistato da Franco Presutti. La partita è finita, a volte nel caccio capitano cose imprevedibili. Sto fatica anche a analizzarle. Sicuramente è un nostro difetto al di là di come è andata oggi la partita. che come abbiamo detto era finita, ma è un nostro forse difetto la gestione nei momenti cruciali di alcune situazioni, alcune palle. Su questo dobbiamo migliorare molto, però non c'è fatica a analizzarla. Potremmo stare più attenti, potremmo essere più tutto, ma in un minuto una squadra come la nostra o anche altre squadre. perché ho fatica a pensare che si possa rimettere in piedi o dar fiducia a una squadra con un uomo in meno e sul 2-0 al cinquantesimo al secondo tempo. Faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno fatto la partita, questo sì. Sicuramente incazzati a dir poco per come è finita la partita. Mi auguro di no e credo di no sicuramente, ma è normale che sia così. Credo che chiunque oggi sia stato allo stadio va via con ramariche in bocca e con la delusione di due punti persi. ha maggior ragione chi va in campo, i ragazzi, quindi mi auguro di no perché domenica abbiamo una partita altamente stimolante, quindi con la prima in classifica. Chi è il migliore in campo di oggi? Perdiamo sì Danilo e Alessandro per Scolifia, ma sappiamo le sue qualità, ma abbiamo altrettante qualità importanti in rosa, quindi ci sarà modo per poter dimostrare il proprio valore e chi andrà in campo. Questo non è un problema, ripeto, la partita è altamente stimolante, quindi quello che oggi ci portiamo via a grosso rammarico, credo di domenica, mi auguro che riesca a tramutarsi in rabbia per poter fare la partita che dobbiamo fare. Sbancato Montegiorgio, l'Agnonese punta con decisione ai play-off, Erminio Rullo carica i suoi, si dice soddisfatto per la prova della squadra. Allora vediamo il contributo. L'Agnonese punta ai play-off, lo certifica l'Espload di Montegiorgio recuperati tre punti alla quinta della classe, che ora ha solo quattro lunghezze di vantaggio su una rivale che vuole arrivare fino in fondo, giocando un calcio gradevole e potendo contare su una società ambiziosa che non fa mancare nulla ai propri tesserati. Una prova di forza importante è quella di Granata, nonostante le assenze pesanti con cui lo staff tecnico ha dovuto fare i conti. Non è da tutti vincere in trasferta senza tre difensori centrali titolari, Frabotta, Ciampi e Allegra. Vittoria voluta, direi anche meritata perché non abbiamo mai sofferto la partita su un campo difficile, c'è una squadra forte, venivamo da settimana particolare, avevamo la difesa praticamente tutta fuori, 5-6 assenze importanti e oggi chi ha giocato ha dimostrato che è alla pari con i titolari che hanno fatto bene fino adesso, quindi un orgoglio ancora in più per loro e sarà solo meritate. Defezioni non solo nel reparto arretrato ma anche in attacco orfano del centravanti titolare a costa. Al suo posto uno degli ultimi acquisti, il pari ruolo a Maia, che ha fornito un contributo importante e dimostrato di poter essere utile alla causa. Insomma ci sono tutti i presupposti per raggiungere l'obiettivo ambizioso, anche se giustamente l'esperto Rullo fa il pompiere continua a predicare umiltà e ad indicare nella salvezza l'unico e prioritario traguardo da centrare il prima possibile. Vasto Girardi a testa alta contro la capolista per il tecnico Francesco Farina, la differenza l'ha fatta la classe di Sansovini. Il nostro girone di ritorno, le sue parole, inizia a Iesi, domenica, gara da non fallire a tutti i costi. Anche qui il contributo. Al completo, come sarebbe finita? Sono in tanti a chiederselo e sì perché il Vasto Girardi ha tenuto botta alla prima della classe San Nicolò Notaresco, almeno fino a quando sua maestà Sansovini non ha deciso di salire in cattedra sfoggiando un colpo da categoria superiore. Stop con un piede, conclusione con l'altro e palla all'angolino. Fino a quel momento, trentesimo della ripresa, a sfiorare il vantaggio erano stati i padroni di casa con una maldestra conclusione del puntero Migno da posizione invitante a tu per tu con il portiere. Ho visto una partita molto equilibrata, sia sullo 0-0 che sull'1-1. Abbiamo avuto delle occasioni da rete per andare in vantaggio. Addirittura abbiamo preso a un certo punto due pali sulla stessa azione, una attraversa di un palo. I ragazzi hanno dato l'anima, anche se a noi mancavano giocatori come Ruggeri, Grimateng, Fazio, Gentile, De Vizia. Non puoi concedere alla prima in classe tutti questi giocatori. Però ho visto fino a 10 minuti alla fine una grande partita da parte dei ragazzi. La partita è stata decisa da questo grande colpo da campione di Sansovini che comunque ha spostato gli equilibri. Perché poi quando sei in disordine e vai 2-1, poi è duro recuperarla a 10 minuti alla fine. Quindi io addirittura ho tolto Petrone a 6-7 minuti alla fine perché è diffidato. Io già avevo pensato sul 3-1 alla partita di dopo. Però questa è stata una partita che ha deciso tra molti degli episodi secondo me. Paradossalmente il vasto Girardi deve ripartire dalla sconfitta del Civitelle per centrare la prima vittoria del 2020 e recuperare i punti che mancano per la salvezza. Perché la prestazione c'è stata e forse con Ruggeri in difesa, Chiarema Tenghi in attacco e con Gentile e De Vizia disponibili sarebbe finita diversamente. Farina insomma può essere più che soddisfatto della prova che i suoi hanno dato in campo. Una prova di carattere e di qualità, la base su cui impostare l'undici che domenica a Iesi dovrà vedersela contro la penultima della classe. Io penso che noi dobbiamo pensare con orgoglio che abbiamo reso la vita difficile alla capolista per come eravamo. Il nostro gioco di ritorno inizia domenica a Iesi, dobbiamo andare determinati a fare risultato e dobbiamo continuare la marcia che abbiamo interrotto. Io penso che in questa campagna acquisti e vendite siamo usciti bene, però siamo usciti con giocatori che comunque non giocavano da un bel pezzo. Quindi abbiamo messo in condizione Pesci che oggi ha fatto una buona partita. Noi stiamo aspettando un Migno che ritrovi la condizione giusta. Il portiere Ovidius pure è arrivato tardi. Quindi adesso c'è bisogno della condizione da partire tutti, recuperare gli squalificati sicuramente li recupereremo. Abbiamo perso oggi di lullo, però comunque dobbiamo recuperare anche De Vizia e poi puntare alla salvezza insomma. Bene, questo era il nostro ultimo servizio. Grazie per aver scelto la nostra informazione sportiva. Buona giornata, arrivederci. Grazie a tutti.